Ciao allora mi chiamo Casio Agostino, è la prima moto di un certo livello che ho acquistato qui da Fabio. Prima ho avuto una Yamaha R1, un F800, ho avuto anche un Kawasaki e un R6 e poi tramite Facebook ci siamo conosciuti con Fabio parlando del più del meno della mia moto ci siamo trovati a parlare di Ducati e riuscite a convincermi a comprare questo gioiellino e adesso non vedo l'ora di provarlo, farò il classico 1000 km di rodaggio quello lo userò espressamente in pista e vediamo come si comporterà in pista. Come dicevo siamo conosciuti su Fabio, sono venuto qui a conoscere di persona e come dicevo con lui ho mai visto una concessionaria così bella, così con un personale veramente preparato e poi sì non ho mai visto una concessione di moto con una passione così grande e con così tante belle moto quindi sì ecco mi ha colpito molto. Ah, sinceramente la moto che ho acquistato è espressamente perché è bellissima poi parliamo di un V4, secondo me la moto più subito, per l'estetica non vedo l'ora di provarla e spero di trovarmi anche se mi hanno detto molti che sarà un po' difficile subito perché è molto aggressiva ed è uno stile di guida completamente diversa dalla giapponese quindi vediamo, sarà tutta una sorpresa adesso la moto giustamente come dicevo prima è tutta da preparare a livello da pista ovviamente adesso ci sono delle modifiche da fare come ad esempio radiatore, scarichi, un po' di rovina due modifiche, poi la moto non si tiene mai originale quindi sicuramente qualcosa, anzi tante cose sono da fare senza rovinare l'estetica Indomani consiglieresti motoagento a un tuo amico? assolutamente sì, questo sicuramente chiaramente io venendo da Modena con la distanza ero un po' di paura c'era poi sì, ad oggi tutto quello che mi ha detto è stato vero quindi la serietà c'è stata veramente e quindi sì assolutamente sì 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 e poi comunque qui è il paradiso del moto quindi sicuramente chi entra qui dentro e vuole acquistare una moto esce con una moto sicuramente va bene, grazie Agostino grazie a voi ciao ciao ciao